Il leader della Lega Umberto Bossi ieri sera nel Cremonese è tornato ad evocare la secessione e la medicina giusta, ha detto, per un paese che truffa i suoi cittadini. Ma non usciremo dal governo, continueremo fino a quando sarà completato il federalismo e ai militanti un monito, chi è sensibile ai soldi verrà espulso. Non c'è nessuno che pensa troppo ai soldi, anche perché due a un po' con quelli che si rimontrano troppo sensibili, diciamo, ai soldi, come io, i soldi li metto fuori. Ma perché questi diventano pazzi per dare, continuamente, per prorogare il pagamento delle multe di 100 allevatori? Perché ci sono due processi aperti, uno in Piemonte e uno in Friuli, dove esistono già due condanne in primo grado, dove con le cooperative Savoia si truffava la Comunità Europea per i fondi relativi all'agricoltura e alle quote latte. E da dove passavano i soldi, secondo la magistratura? Dalla Credito o no? Dalla Credito o no? Dalla Credito o no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.